Salute e benessere Un argomento rispetto a quale sembrerebbe di fare l'esperto che abbiamo in studio e che a breve vi presento la classica domanda da un milione di dollari. Sicuramente sarà questo, quello a cui penseranno tutti gli amici a casa nel momento in cui vi annuncerò che oggi parliamo dello stress, ma in particolare con il dottor Michele Tedesco, psicologo e psicoterapeuta, Cerchiamo insieme di scoprire come combattere lo stress, come sconfiggerlo e soprattutto come imparare a gestirlo. Ho detto bene dottore, una domanda quasi da un milione di dollari. Come gestire lo stress, ma soprattutto come rapportarci con quello che è lo stress, che è l'adattamento tra noi e le sfide piccole o grandi del quotidiano. Quando dobbiamo affrontare le nostre sfide, il quotidiano, ma anche quelle che poi possiamo chiamare esperienze o problemi, in base alle nostre risorse mentali e fisiche possiamo avere la sensazione di poter fronteggiare, quindi gestire delle situazioni, oppure possiamo credere che in qualche modo sovrastino la nostra capacità di far fronte. In questo momento si attiva un meccanismo conservativo, e poi anche sia psicologico che del cortisolo, che di affaticamento, il famoso stress. Quindi questo è il nostro modo di porci, però, verso gli impegni. Gli stress riguardano diversi ambiti, può essere lo stress sul lavoro, lo stress in famiglia, con i figli, coniugale. Quindi lo stress fa parte della vita. In qualche modo noi esseri umani, fin dal principio, siamo preparati per lo stress. E che non ce lo diciamo. Cioè noi veniamo da persone che dovevano correre e scappare dai leoni per rincorrere il cibo. Quindi siamo abituati a vivere in un ambiente, tra virgolette, minaccioso. Solo che oggi queste minacce hanno assunto un aspetto diverso, però da un punto di vista psicologico le nostre reazioni sono rimaste le stesse. Quindi adesso facciamo un po' di chiarezza su quali sono appunto queste reazioni verso lo stress. Ecco, lei diceva che in qualche modo lo stress fa parte di noi, fa parte della nostra quotidianità, siamo noi a non saperlo più gestire. Sì, perché diciamo la famosa resilienza, noi esseri umani vediamo questa capacità di resistere alle avversità della vita. A me ritorna più l'etimo latino di resalio, cioè prima significava risalire sulla barca quando si girava, si capovoltava. Quindi oggi, diciamo, quando si capovolge la barca della vita sarebbe la capacità di ritornarci sopra. Ovvero di rifocalizzarsi, cioè pure la nostra attenzione, le nostre priorità, perché poi lo stress non si riesce a far fronte a tante cose o a una cosa in particolare. Però rifocalizzarsi su delle priorità personali già diventa uno strumento importante, cioè fra tante cose da fare, il lavoro, la famiglia, gli amici, lo sport. Cioè, è normale che durante la giornata ci siano tante emergenze da dover gestire, ma quali sono quelle due, tre cose importanti delle priorità nella nostra vita, su cui poi, ecco, resilienza, rifocalizzarsi. Cioè, se per me è importante leggere, allora in qualche modo quei dieci minuti, un quarto d'ora per leggere, va conservata. Se no, si arriva la sera, che uno è stato preso da mille cose, ma non ha fatto davvero quelle priorità per noi, che ci fanno stare bene, ci permettono poi di essere soddisfatti della giornata e non stressati. Potrebbe essere lo sport, potrebbe essere un'ora con i figli, cioè ognuno sa quali sono le proprie priorità. Allora, se noi riusciamo a focalizzarci su queste priorità, già è uno strumento per non lassarsi prendere dagli impegni e dalle mille chiamate che comunque ci sono, però con la capacità personale di rifocalizzarsi in modo da arrivare alla sera in cui sia stato soddisfatto un nostro bisogno. A questo punto sembra emergere quasi che è sbagliato, che quello che sbagliamo è proprio voler eliminare lo stress. Lo stress è utile. Il primo step è capire che fa parte di noi. Fa parte della vita, ecco le aspettative. Se aspettiamo che lo stress non esista, è un modo di rapportarci, perché lo stress nient'altro è che un adattamento continuo alla realtà. Esempio, se ci svegliamo la mattina, è nuvoloso, uno può stare stressato e lamentarsi del nuvolo, no? È come se fosse possibile far uscire il sole. Ecco, lo stress si combatte anche cercando di focalizzarsi su quello che uno può controllare, il controllo. C'è un esperimento famoso di uno psicologo, di due topolini nella stessa gabbia, dove arrivavano delle scariche elettriche e uno, poggiando su una leva, aveva l'illusione di poterle controllare. Alla fine dell'esperimento entrambi hanno avuto le stesse scariche elettriche, ma quello che aveva l'illusione di controllare stava bene nei parametri fisiologici e comportamentali. L'altro topolino perdeva il pelo, aveva gli occhi rossi, stava particolarmente stressato, a livello di cortisola altissimi. Avevano ricevuto le stesse scariche elettriche. Quindi ci dice, la capacità o anche l'illusione, fra virgolette, di poter controllare una situazione, ci permette di viverla in modo attivo, ecco, e quindi questo ha una serie di ripercussioni psicologiche e psicofisiche importantissime. Quindi, ecco, concentrarsi e pensare a quello che si può controllare. Cioè, cosa posso fare adesso, che è sotto il mio controllo, senza lasciarsi trasportare appunto da quello che non possiamo controllare. Può essere il tempo, può essere la decisione di un'altra persona, può essere, cioè, tutto quello che poi la vita ci viene incontro. Quindi focalizziamoci su quello che noi possiamo controllare e quindi evidentemente sul presente. È possibile individuare, come abbiamo fatto più volte nel corso di questa rubrica, piccole regole che gli amici a casa possono seguire per imparare in qualche modo a gestire da soli lo stress? Lo stress. Un altro modo, lo stress non ce lo creiamo da soli. Spesso le esperienze della vita, il modo, ecco, la ristrutturazione cognitiva, cioè il modo in cui noi parliamo di un'esperienza, di una sfida, se noi diciamo che è un problema, un problemone, cioè, già le parole in sé, da un punto di vista psicologico, attivano, per la mente, il problema può essere tanto schiantarsi con la macchina, tanto quanto una zanzara che ci punge la notte. Da un esempio bello forte. Quindi se noi diciamo problema, 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 cioè la nostra mente si crea così, se invece usiamo anche un modo di parlare diverso, cioè questa esperienza, questo rapporto, questa sfida, cioè abbiamo un approccio di tipo diverso e soprattutto usciamo anche da una forma di debolezza in cui spesso ci facciamo vittime dello stress perché poi impegnarci, l'essere umano ha tutte le risorse per poterlo fronteggiare, tranne in casi estremi, ma lo stress quotidiano rientra nelle capacità psicologiche di ogni persona. Quindi di non fare, appunto, mettersi a volte le panni del debole, per non prendersi la responsabilità di non impegnarsi, e quello fa anche comodo e quindi si è stressati per non impegnarsi. Alle volte pure fra i due principi, come diceva Freud, il principio di piacere e di realtà. Spesso vorremmo sempre il piacere, come i bambini, voglio il gelato, lo voglio adesso. Invece la realtà è diversa. Oggi c'è il nuvolo, domani ci sarà il sole. E quindi uno, se segue il principio del piacere, sta incazzato, sta arrabbiato perché c'è il nuvolo. Se segue il principio di realtà, sa che è temporale. Adesso, anche un problema, chiamiamolo problema, momentaneo, bisogna sempre collocarlo nella dimensione. Oggi, non generalizzarlo. Il problema, l'impegno, non so come fare. Oggi, lo stesso problema, nell'arco di un mese, due mesi, cinque anni, acquista una dimensione completamente diversa. Come farò tra cinque anni con la situazione che oggi è assurdo e sbagliato, perché in cinque anni una situazione può essere cambiata completamente. E questo è il messaggio. Certo. Quello che è impossibile fare in un giorno diventa verosimile in un arco di tempo più lungo. Altra cosa, non allargarlo a tutti gli aspetti della vita. Spesso c'è questo effetto di contagio. Se uno è stressato in un ambito specifico, inficia tutto il resto dell'esistenza della persona. Quindi un aspetto specifico, un disagio relazionale, non deve inficiare, non deve entrare nell'area del lavoro, nell'area del rapporto con i figli, nell'area con gli amici. Viceversa, delle problematiche specifiche, l'attenzione a non farle generalizzare a tutte le aree della persona. Ecco, se noi siamo capaci di agire su quello che controlliamo adesso, di rifocalizzarci su delle nostre priorità e appunto di trovare anche un modo, delle parole giuste per poter descrivere quello che noi vogliamo fare, ecco che questo ci permette di riprenderci il controllo. Il controllo, come dico sempre, poi adesso, perché poi spesso noi siamo portati un po' a raccontarcelo sul passato, il futuro, e ci perdiamo questa occasione. Allora, con questi strumenti, quindi con la capacità appunto, come dicevo, di resilienza, di resistere, ovvero di essere determinati, ma determinati appunto si può essere in tante cose, determinati e non lasciare andare quelle che sono le nostre priorità, poi come sempre la vita ci porta altrove, però questo refocus vuol dire perdiamo di vista le nostre priorità, ci ritorniamo sopra, le riperdiamo, ci ritorniamo sopra, agendo su quello che possiamo controllare adesso, appunto poi con questa ristrutturazione cognitiva, invece di vedere problemi, vediamo come esperienze di vita, come delle sfide, quindi come qualcosa che ci dà un entusiasmo, uno stimolo a fare meglio, e soprattutto con la consapevolezza che sul principio di realtà, che la vita è così, quindi la realtà è questa e quindi questo ci permette di essere efficaci e avere il controllo di quello che noi vogliamo fare. Possiamo concludere dicendo che bisogna pensare al qui ed ora. Al qui ed ora, il presente, però il presente è fatto anche di tante chiamate nel circolo, come dicevamo. Sapersi adattare a questi costanti stimoli, a questi costanti cambiamenti. Sapersi adattare focalizzandosi appunto, quello che poi dico spesso, i no, cioè oggi le chiamate sono tante, sono tante da tanti punti, quindi bisogna conservare il sì ad alcuni aspetti importanti della nostra vita, della nostra giornata, e poi logicamente uno deve far fronte alle tante richieste che la vita ci pone, che le persone ci pongono, ma senza perdere, mantenendo diciamo il timone in modo su quello che poi a noi ci fa star bene. Se noi arriviamo a un certo punto che siamo stressati, siamo delusi, siamo insoddisfatti e non sappiamo nemmeno bene il perché. Perché ci siamo persi in pensieri, nei lamenti, nel deresponsabilizzarsi. Quando diciamo fallo tu, colpa tua, perdo il controllo mio su quello che posso fare. In realtà quella non è debolezza, la debolezza è l'io che dice no, io non posso, fai tu. Invece la forza di dire io posso, quindi il controllo, cosa posso fare oggi? Quindi quello che è mio sotto il mio controllo. Se voglio imparare un libro intero ed è stressante, se immagino tutto il libro intero è stressante, se è peggio adesso, cosa posso fare? Leggere le prime tre pagine, le altre tre. Ecco che io riprendo il controllo della situazione, che viceversa mi sfugge. Procedere passo per passo, assolutamente. Passo per passo, quindi focali sulle proprie priorità, col controllo di quello che oggi possiamo controllare e con un dialogo interiore, usando le parole giuste, delle parole nuove, più semplici, delle parole quasi magiche. Perché se noi alle volte cambiamo il nome ad una situazione, cambia completamente quello che noi possiamo fare e soprattutto il vissuto di come la viviamo. Beh, io direi che a questo punto è estremamente chiaro e sicuramente consigli utilissimi che tutti possiamo applicare e nella vita di tutti i giorni e adesso soprattutto. Ha ragione. E allora grazie a dottor Michele Tedesco per essere stato con noi e per i suoi consigli. Grazie a voi. Ci rivediamo al prossimo appuntamento con la nostra rubrica dedicata a salute e benessere. Grazie a tutti.